Maria, donna grassa, rimane incastrata nella tazza del water. Il marito prova a tirarla fuori e non ce la fa. Maria, dobbiamo chiamare i vigi del fuoco. Lo so, ma adesso questi arrivano, mi vedo nudo qui, io mi vergogno. Dammi qualcosa da mettere davanti, dammi il sombrero tappato sull'ina alla porta. Il marito gli prende il sombrero, glielo lo mette davanti, arriva il comandante dei vigi, dà un'occhiata intorno alla tazza, chiama il marito e gli dice, allora per sua moglie non c'è problema, con un piede di porco, gli facciamo leva sotto, riusciamo a tirarla fuori. Però per il messicano non c'è più niente da fare, eh?